Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il fatto dedicato alla politica al Comune di Montesilvano. Completiamo sostanzialmente il giro dei protagonisti di questa campagna elettorale che inizierà con la presentazione delle liste sabato prossimo, incontrando il Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Buonasera. Buonasera, dettore, grazie per l'invito. Che ha accettato il nostro invito a partecipare, in realtà i partecipanti a questa campagna elettorale saranno soltanto due, ormai salvo sorprese saranno da Dazio, che abbiamo già avuto ospiti, appunto De Martinis, quindi già sappiamo che non ci sarà un turno di ballottaggio in città. Però quello che sappiamo è anche De Martinis, io questo gli ho chiesto soprattutto da Montesilvanese, prima di entrare nel merito anche della questione politico-amministrativa. Insomma c'è anche un po' di nostalgia nel lasciare la città con il suo nome storico, Montesilvano, perché sappiamo tutti che questa consigliatura durerà poco, due anni e mezzo, e soprattutto che la città cambierà nome. Qual è il suo stato d'animo innanzitutto a fronte di questa particolare campagna elettorale? Intanto il numero ridotto di candidati sindaci probabilmente dipende anche da questo, dal fatto che sarà un mandato ridotto a seguito della legge che prevede appunto che nel 2017 si ritorni a votare invece per una città nuova, una città che comprende i territori di Montesilvano, pescare spoltore. Il mio sentimento è sicuramente un sentimento che è triste, triste perché sapere insomma che la mia città, la città dove sono praticamente nato e cresciuto e che ho nel cuore in modo veramente forte possa scomparire, perché di fatto questo accadrà. Ho manifestato negli anni questo sentimento, ma soprattutto negli anni ho manifestato dubbi e perplessità rispetto a questo processo che mi auguro, come detto da qualcuno, possa davvero rappresentare qualcosa di benefico per il territorio, diversamente da quello che invece in tanti pensano, compreso me. Io ho sempre sollevato per prestità relativamente ai benefici e ho sempre auspicato invece a un processo diverso, che non fosse quello che è stato pensato qualche anno fa e legiferato, ma un processo che magari avrebbe sicuramente portato all'unificazione di qualche servizio, ma che avrebbe mantenuto le identità dei tre territori. Vediamo che cosa succederà, perché poi c'è sempre margine per modificare quello che è l'assetto attuale, io me lo auguro, anche alla luce di una serie di difficoltà che stiamo riscontrando ogni qualvolta ci sentiamo al tavolo. Quando parlo di stiamo, ovviamente mi riferisco ai tre sindaci, quindi con Carlo Masci e con Chiara Trulli, ma anche con i dirigenti dei vari comuni, che stanno facendo veramente fatica a trovare una quadra attorno a quello che nel 2027 dovrà essere il nuovo scenario. Quindi ci sarà sicuramente comunque modo di approfondire e di verificare in corso d'opera, per il momento il sentimento ovviamente è quello che dicevo, è un sentimento non bello, non felice. Ecco, proprio per questa ragione veniamo al dato politico, lei così come fa a pescare a Carlo Masci nel sottolineare la brevità di questa nuova consigliatura, chiede continuità amministrativa. Sì, in questi giorni alle varie domande che mi sono state rivolte ho sempre risposto relativamente a questo, che la continuità è anche da un punto di vista non soltanto amministrativo locale, ma anche in vista di questo processo un elemento premiante, per il quale mi auguro ci possa essere mi possa essere dato appunto un'opportunità per continuare il lavoro svolto, non soltanto per la città, ma anche per quello che sarà il nuovo scenario. E alla luce di quello che dicevo, le difficoltà riscontrate, portare avanti ancora insieme tutti e tre i sindaci che attualmente siedono attorno a un tavolo il lavoro, significa non dover tornare su alcuni punti che abbiamo comunque fissato e su alcune situazioni sulle quali stiamo lavorando. Chiudiamo il discorso politico con la domanda inevitabile rispetto alle tensioni di questi ultimi giorni con la Lega all'interno di una coalizione, Lega peraltro è il suo partito, che ha qualche matrice ancora poco chiara per noi osservatori, soltanto fibrillazioni post risultato regionale come è avvenuto e sta avvenendo in tanti altri comuni, oppure c'è stata qualche riserva di tipo amministrativo rispetto al lavoro che è stato svolto in questi anni. Io ritengo, se così fosse, assurda la decisione presa dalla Lega qualche settimana fa, perché è sotto gli occhi di tutti che l'azione amministrativa portata avanti sul territorio, peraltro in collaborazione con tutte le forze che sedevano con me in Consiglio Comunale, è stata un'azione amministrativa positiva che ha regalato a Montesilvano una nuova veste e soprattutto da parte degli altri una nuova considerazione. Montesilvano fino a qualche anno fa era considerata città dormitoria, una città spenta, oggi Montesilvano è una città assolutamente viva, dinamica, sempre più attrattiva da un punto di vista turistico e quindi mettere in discussione un sindaco che ha condotto 5 anni così importanti risulterebbe essere davvero assurdo. Rimane la componente politica per la quale sono stato accusato, ma io continuo a ribadire quanto detto anche in precedenza. Alle ultime regionali, tra non poche difficoltà, io porto davanti comunque una campagna elettorale sostenendo una candidata che peraltro con il segretario regionale di Ucideramo abbiamo scelto, che è Corinna Sandias, che è vero non ha in qualche modo riportato un risultato esaltante, ma vista le condizioni, vista la candidatura arrivata all'ultimo momento e vista una serie di componenti, il partito avrebbe a mio avviso, come detto nei giorni scorsi, dovuto anche ringraziare intanto lei ma anche me per il lavoro svolto. Peraltro Corinna Sandias che è stata inabbinata con Marcello Antonelli che anche lui ho sostenuto in maniera convinta. Che dire, tutto questo non è bastato, ne ho preso atto, ne prendo atto, mi dispiace perché poi a sollevare perplessità sulla mia candidatura è stato parossalmente solo il mio partito. Adesso pare che la cosa sia rientrata assolutamente, la Lega si sta preparando a sostenerla, è stata ritirata alla candidatura di Aliano e lei dovrà vedersela con Fabrizio D'Addazio. Cosa ne pensa della campagna elettorale che si prepara a vivere contro questo avversario e contro una coalizione abbastanza ampia radunata attorno all'imprenditore? Intanto io come sempre fatto anche in questi anni farò una campagna elettorale tra la gente e sempre con quel rapporto che mi ha contraddistinto in questi anni. Io sono stato definito da tutti il sindaco del popolo e con questo spirito mi ripresento agli elettori, alla città e convinto che questo rapporto forte che ho avuto da sempre e che si è creato con i cittadini possa darmi il consenso che poi servirà a continuare il lavoro amministrativo. Per quel che riguarda il mio concorrente diciamo così, chiamiamolo così, che peraltro conosco bene, ho anche rapporti amicali, io penso sempre al mio e meno a quello che fanno gli altri. Si tratta di un imprenditore, di una brava persona che comunque sia un domani, qualora insomma si dovesse sedere in consiglio comunale, si dovesse prendere decisioni per il territorio, sono certo possa rappresentare comunque una persona seria, una persona collaborativa, me lo auguro, anzi qua ne sono certo e quindi diciamo che lo spirito di questa campagna elettorale è sicuramente sereno e sicuramente i toni, sono certo saranno i toni giusti e le argomentazioni saranno anche quelle giuste, cioè quelle che vuole la città, ossia gli obiettivi da raggiungere, le cose di cui i cittadini hanno bisogno e questo e solo questo a mio avviso caratterizzerà questa campagna elettorale. Quattro minuti ancora per dire soprattutto ai cittadini e agli elettori di Montesivano di cosa ha ancora bisogno della città e soprattutto la città e soprattutto cosa è realizzabile in questa legislatura così breve o completabile in questi due anni abbondanti? Allora intanto ho già sottolineato quanto tanto di buono si sia fatto a Montesivano in questi cinque anni, nonostante, lo voglio ricordare, ci siano stati due anni difficilissimi segnati dal Covid, durante i quali comunque mi piace rimarcare anche lì il fatto che Montesivano durante l'emergenza sia risultata una città dove si è fatto davvero tanto e una città che è stata presa anche ad esempio in merito al contrasto a quell'emergenza che sembrava davvero essere un'emergenza senza fine e quello che è stato fatto è davvero tanto, l'elemento importante e lo dicevo anche nel precedente intervento e quello che andrà fatto nei prossimi due anni e mezzo è sicuramente completare tutta quella serie di opere, quel programma che ha il PNRR quale protagonista. C'è una scadenza importante quella del 26 che è la scadenza appunto dettata dal PNRR che ha avuto già i suoi frutti, questo frutto durante questo mandato ma vedrà la maggior parte dei frutti proprio durante il prossimo mandato e quindi intanto quello che c'è da fare è completare il lavoro iniziato per quello che riguarda le opere ma anche un'azione amministrativa che noi abbiamo detto dall'inizio dovesse avere al centro sempre e comunque un settore che è quello del turismo che è il settore trainante della nostra città, noi abbiamo puntato soprattutto su questo con una visione ben chiara e questo è risultato assolutamente vincente perché oggi Montesilvano con le sue 700.000 presenze turistiche è diventata davvero un punto di riferimento per tanti motivi e soprattutto per le più svariate situazioni, quindi eventi sportivi, eventi di altro genere. Siete pronti per l'estate? Siamo prontissimi per l'estate, sono felice di aver potuto presentare come non mai in precedenza in tempo utile il cartellone rispetto agli altri anni, gli operatori turistici ci chiedevano soprattutto questo, di poter nell'offerta da presentare ai potenziali turisti offrire anche dei pacchetti con all'interno degli eventi già configurati. Da questo punto di vista quest'anno per la prima volta siamo usciti in largo anticipo e questo rappresenterà sicuramente un valore aggiunto per la città e per quanti appunto creano economia cittadina. Bene, ultima domanda relativa a quelle che sono le sue aspettative, soprattutto non tanto della sua campagna elettorale, ma anche della partecipazione al voto che è un grande tema che inizia a riguardare un po' anche le elezioni comunali come abbiamo visto. Non sarà una campagna elettorale facile per nessuno quella di farla casa per casa, mi pare di capire, con la disaffezione generale che riguarda la politica? Io in questo confido tanto su quello che è stato fatto, che sarà sicuramente una molla in più e confido tanto su quel rapporto di cui parlavo prima, un rapporto talmente stretto con i cittadini che sono convinto spingerà gli stessi ad andare a votare. Certo che la componente astensionismo in questi anni è stata una componente davvero importante, mi auguro che come comunque del resto succede quando si tratta di elezioni locali ci possa essere comunque la percentuale in più di votanti. Ci sono due peraltro votazioni, quella del comune ma anche le europee che sono comunque molto sentite e molto davvero preziose per il futuro del nostro territorio, ma del territorio nazionale tutto. Quindi io penso che queste possano essere, insieme al fattore di cui parlavo prima, possano rappresentare sicuramente un incentivo in più. Oltre al fatto che le mie liste, tutte e quattro le liste che sosterranno la mia candidatura, sono composte da tanti amministratori, tanti candidati che sono certo riusciranno a veicolare non soltanto consenso ma anche a portare gente alle urne. Benissimo, grazie Ottavio Di Martinis, poi naturalmente ci sentiremo in quelli che saranno gli spazi di confronto della Parcondicio in TV, quindi avremo modo poi anche nel confronto con D'Addazio, perché credo appunto non ci siano altri candidati, di riaverla ospite. Grazie ancora e in bocca al lupo. Arrivederci.